A Morgani già sfida tra grandi per il lancio verso la gloria con Archini adotte il 4-3-1-2 contro il solito 4-3-3 del tecnico ospite Gaburro. Bianco e rossi ospiti che mandano in campo da primo minuto Piscitella dopo lo 0-0 in casa del Carpi e pareggia a domicilio con l'Algnanese e Forlì ospita un'altra tra le pretendenti alla vittoria del campionato. La prima occasione capita proprio per il Forlì. Dall'angolo arriva il colpo di testa dell'ex Sant'Arcangelo capitano che termina alto. Ci prova l'ex Sassomarconi-Rapai, tonato quest'estate in bianco-rosso ma il suo tentativo si perde a lato. Dalla bandierina Rapai cerca il gol alla palanca, calcio direttamente in porta, Marietta alza sopra la traversa. L'ex Rimini-Pera recrimina per un fallo di mano in area di rigore ma l'arbitro fa segno di proseguire tra l'altro ben appostato. Si rivede il Rimini dopo la mezz'ora, Piscitella serve Gabbianelli, mira da dimenticare per l'ex Albino Leffe. La ripresa inizia con Pera protagonista, l'ex Recanatese Rimini è pericoloso con questo tiro che viene deviato in corner dalla difesa ospite. Al 65esimo si decide il match, sarà questo il gol partita. Un certo del Duc, il buon Maurizio Mosca direbbe in senso satirico, chi fa tutto da solo, si complica la vita nella propria metà campo, rimette in ordine pallone di De e apri per Gressonin. Traversone per Ferrara che di prima intenzione scodelli pallone sulla testa del centrale difensivo Fede Lagaburro. Aglias Carboni 0-1, gol che vale il trionfo, detto proprio da uno che di campionate di vittorie se ne intende avendone messe già in archivio diversi. La reazione dei Galletti è sterile, il tiro di pezzi è lontano dal bersaglio, dalla bandierina il pallone giunge a Schironi, cui tentativo viene murato dalla difesa ospite. Con scarsa fortuna ci prova anche Pera da fuori area, ma la conclusione è da dimenticare. Al novantesimo in Folli c'entra il Merino, ma la conclusione di Rapai è comoda presa per Marietta. Termina qui una gara che vede Rimini sfruttare meglio le poche occasioni da rete, il Folli peccare di precisione. Se anche Bob Erpera non trova la porta significa che per i Galletti c'è davvero poco da cantare. Non è giornata, ma entrambe le compagini, siamo sicuri, saranno protagoniste fino alla fine del torneo.